Anche oggi è una giornata molto bella, a Milano c'è il sole, il pupazzo dorme, finalmente ho dormito anch'io fino alle 10. Mi dico, sono fortunato, sto vivendo un'avventura bellissima in mezzo a degli amici straordinari. A volte mi trovo lì con la chitarra addosso, seduto senza suonare a guardarli, sono magnifici, cantano queste canzoni bellissime che io conoscevo per radio, ma a sentirle lì in cuffia, emozionanti, una canzone speciale per ogni periodo della nostra vita. C'è qualcosa che ti spacca il cuore, che ti dà anche il segnale e il motivo per cui questi quattro miei amici sono ancora qui a farci sognare. Io dico a farci perché sono un po' dentro, un po' fuori. Questa avventura mi tiene dentro, certo. Stamattina mi prende così. Volevo dire che è molto bello e molto emozionante e sono molto felice di avere degli amici così preziosi, onesti, sinceri, bravi. Vabbè, adesso guardiamo.